E come è stato far vivere in maniera culto nuova quella biblioteca attraverso questa performa? È un'esperienza importante, nuova sicuramente, che rompe un po' gli schemi della quotidianità ma che sicuramente dà ulteriore valore a un luogo che rappresenta la memoria storica di questa città in un modo emblematico. Mi sembra che rappresenti lo spirito della nostra città, che è una città del fare e insieme a una città con istituzioni culturali di grandissimo prestigio con una storia importante, con un patrimonio straordinario nella disponibilità di tutti i cittadini alla cui tutela e alla cui valorizzazione tutti concorrono con le capacità e le forze che hanno.